L'hanno chiamato per dirgli che il ciclo continua e che l'obiettivo del campionato sarà minimo la zona playoff. La lettera B non l'hanno pronunciata per scaramanzia. E lui, Roberto De Zerbi, che un invito a cena lo stava aspettando da giorni, è salito a bordo della sua macchina e alle 21.30 era a Foggia, a tavola con Peppe Tiso, Luca Leccese, Massimo Curci e i fratelli Sannella. C'era anche il team manager Diego Valente e il commercialista di fiducia dei Sannella, Lucio Fares. A De Zerbi è bastato un brindisi prima dei pasti per poter ringraziare chi lo ha cercato e sentirsi pienamente l'allenatore del Foggia. La firma per il rinnovo del contratto arriverà dopo il trasferimento delle quote a Carla Di Corcia e Luca Leccese. Qua rimango perché c'è la possibilità di fare davvero bene con una squadra forte che ho sempre ribadito e cercare di poter fare meglio dell'anno scorso perché ci sono tutte le condizioni. Toccata e fuga nella sua Brescia per gli ultimi giorni di riposo, De Zerbi tornerà a Foggia martedì dopo l'atto ufficiale del trasferimento delle quote e in serata nel corso di una conferenza stampa parlerà del progetto che intende realizzare nei programmi. C'è un campionato da protagonisti nel segno della continuità. L'ambizione è sostenuta dagli attuali dirigenti e soprattutto dagli imprenditori che contribuiranno alla causa rossonera. I fratelli Sannella in prima fila, poi Salvatore Castellano, i fratelli Russo, Salvatore Di Silluso, Rocco Bonassisa, Gianni Triscioglio. Si accoderanno altri sempre con la formula della sponsorizzazione, probabilmente Paolo Dell'Erba, ma le adessioni già raccolte già bastano per garantire la copertura finanziaria di un campionato che dovrebbe regalare grandi emozioni al popolo rossonero. L'operazione Salvezza dunque può ritenersi praticamente fatta. La conferma arriva anche dall'attuale presidente Fabio Verile, disponibile a favorire qualsiasi soluzione pur di mantenere in vita il Foggia. L'Avvocato cederà le quote a titolo gratuito e, in cambio, avrà la riconoscenza della città per l'impegno reso. Alla svolta societaria, che vede la partecipazione della imprenditoria locale, oltre al direttore generale Tiso e al vicepresidente Luca Leccese, hanno contribuito anche gli uomini della vecchia guardia. Bellisario Masi, ad esempio, una telefonata ai suoi amici per aiutare il Foggia l'ha fatta. Così come ha fatto la sua parte il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha praticamente imposto la partecipazione degli imprenditori strappandoli all'indifferenza e coinvolgendoli nel progetto di rilancio del calcio foggiano. Il sostegno dei fratelli Sannella, che per l'economia locale hanno da poco rilevato il 60% del pastificio Tamma, non può intendersi come una semplice sponsorizzazione. La partecipazione alla cena di ieri sera, la stretta di mano con Roberto De Zerbi e la vociferata presidenza del Foggia a Lucio Fares, commercialista di fiducia, che ha già curato l'operazione Tamma, spingono sicuramente oltre la semplice sponsorizzazione.